No, no, sanzionare subito. A che servo una prepotenza a scuola se non impari manco questo? L'aventera su caricabatterie del telefono mi pareva invece abbastanza sobrio e condivisibile. Faccio per pubblicare... Dove sei, scemo? Ma se lo vedo Alice, capisce che sei senza fancazzo, che c'è pure il telefono in mano, te richiamo e che fai? Gli rispondi? È vero, porco, due, che cazzo gli rispondo? Scusa, non posso parlare perché mi devo lagna su Twitter? E niente, mi sono abortito, eppure penso che quel tweet era fenomenale.